Ci troviamo all'interno del magazzino Ypsilon, che era un magazzino fiduciario di fabbrica, all'interno del quale veniva stoccato dentro delle apposite cisterne l'alcol. Oggi abbiamo soltanto restaurato un po' i muri, abbiamo messo in sicurezza tutta questa zona e all'interno di questo spazio proponiamo degli eventi culturali, musicali, degli incontri di vario genere. Riteniamo che sicuramente questo sia di fondamentale importanza, creare una connessione tra le aziende e la città, tra il mondo del lavoro e il mondo della cultura, perché sicuramente da questo scambio ne possono derivare degli spunti di crescita importanti per la collettività in generale.